Si è insediato questa mattina il nuovo Consiglio della Camera di Commercio Arezzo-Siena, nominato dal Presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Gianni. All'insediamento era presente lo stesso Presidente Gianni. Il Consiglio ha immediatamente preceduto all'elezione per acclamazione di Massimo Guasconi alla Presidenza della Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Una conferma per Guasconi che guida la Camera di Commercio dal 12 novembre 2018. 62 anni, laurea in giurisprudenza. Massimo Guasconi ha ricoperto e sta ricoprendo ruoli di prestigio e di grande responsabilità sia a livello regionale che nazionale nel mondo dell'associazionismo economico e delle istituzioni, ad iniziare dalla Presidenza di Union Camere Toscana. Nel suo intervento il Presidente riconfermato ha ricordato gli obiettivi raggiunti dall'ENTE nel corso di anni così intensi e difficili, caratterizzati dalla pandemia e dai drammatici conflitti che stanno interessando molte aree del mondo, Europa inclusa. Obiettivi realizzati grazie anche alla proficua collaborazione instaurata con i componenti degli organi camerali e con le associazioni di rappresentanza economica di Arezzo e di Siena, collaborazione che proseguirà anche nel prossimo quinquennio. Il prossimo 29 gennaio il Consiglio tornerà a riunirsi per l'elezione dei sette membri che affiancheranno il Presidente nella nuova giunta camerale.